Per valorizzare la comunicazione della pubblica amministrazione e fornire ai cittadini piemontesi un servizio sempre più completo, il Consiglio regionale ha deciso di inserire sull'home page del proprio sito internet i comunicati emessi dagli uffici stampa degli enti pubblici della regione. Cliccando su www.cr.piemonte.it si trova in basso a sinistra la sezione Comunicati dal Piemonte con gli ultimi tre documenti caricati su Mente Locale, servizio ideato e fornito con l'obiettivo di valorizzare la comunicazione pubblica e l'informazione giornalistica regionale.